Un grazie a CSV di Napoli che ha inteso festeggiare nella Fondazione Banco di Napoli questi 20 anni. Le fondazioni bancarie sostengono le associazioni di volontariato proprio attraverso il finanziamento del CSV. C'è una legge nazionale che lo consente, le fondazioni contribuiscono a finanziarle ed a vigilarle. Ed oggi è una bella giornata in cui si possono rappresentare le iniziative, tutto ciò una sorta di resoconto di questi 20 anni, ma anche degli ultimi anni. E un grazie ancora a tutte le associazioni che quotidianamente si impegnano per il volontariato.